Ciao, io sono Claudio Pinna, qui sei su Librarsi e questo è il sesto video dedicato a Favola di Venezia di Ugo Pratt. Ugo Pratt ha radio anch'io, la mia lettura. Sigla! Avevo 4 o 5 anni, forse 6, quando mia nonna si faceva accompagnare da me al ghetto vecchio di Venezia. Andavamo a visitare una sua amica, la signora Bora Levi, che abitava in una vecchia casa. A questa casa si accedeva salendo un'antica scala di legno, esterna, chiamata scala matta, oppure scala delle pantegane, o ancora scala turca. La signora Bora Levi mi dava un confetto, una tazza di cioccolata bollente e densa e due biscotti senza sale, che non mi piacevano. Poi lei e mia nonna, immancabilmente, si sedevano e giocavano a carte, sorridendo e sussurrando frasi per me incomprensibili. E così a me non restava che passare minuziosamente in rassegna tutti i cento medaglioni appesi alla parete di velluto rosso scuro che mi osservavano dai loro ovali di vetro. Dico che mi ossessionavano perché questi medaglioni racchiudevano vecchi ritratti di servi, signori in uniformi asburgiche, o di rabbini con treccine nere e feltri a larghe tese. E tutti sembravano fissarmi con un'insistenza che certo sconfinava nell'indiscrezione. Un po' imbarazzato andavo alla finestra della cucina e guardavo giù in un campiello erboso con una vera da pozzo coperta ad edera. Quei campiello ha un nome, corte sconta detta arcana. Per entrarvi si dovevano aprire sette porte, ognuna delle quali aveva inciso il nome di uno Shed, ossia di un demonio della casta degli Shedim, generata da Adamo durante la sua separazione da Eva, dopo l'atto di disubbidienza. Ogni porta si apriva con una parola magica, che era poi il nome del demone stesso. Li ricordo ancora quei nomi terribili. Samha, Mawet, Ashmodai, Shibbetta, Ruha, Kardeyakos, Naama. Ricordo che un giorno la signora Boralevi mi prese per mano e mi condusse nella corte sconta, illuminando il cammino con un ammenorà, il candelabro a sete bracci, e ogni volta che aprivamo una porta soffiava su una candela. La corte piena di sculture e graffiti. Un re armato d'arco e frecce a cavallo di un dio. Un neonato. Una cacciatrice anch'essa con arco e frecce. Una vecchia con un occhio solo. Una stella a sei punte. Un cerchio tracciato nel suolo con lo scopo di far ballare una ragazza nuda. I nomi degli angeli caduti o veleni di Dio. Samael, Satael, Amabiel. A una certa ora mia nonna decideva di ritornare a casa. Noi abitavamo dall'altra parte della città, alla Bragora, e in quel momento sentivo fisicamente il dolore del distacco da quei misteriosi amici. Essendo troppo giovane, i miei nomi lasciavano ancora circolare da solo. Perciò dovevo aspettare una o più settimane per ritornare nel ghetto. Rincasando con mia nonna, passavamo dal rio dell'assenza alla Madonna dell'Orto, dove sono incastrate nei muri dell'antico fontego dei muri o saraceni le statue dei tre fratelli arabi, El-Rioba, Sandi e Afani. Quando domandavo chi mai fossero quei signori vestiti alla grega, mia nonna rispondeva che erano mori, ma maluchi turchi. Insomma, cose da non chiedere mi facevano capire. Dopodiché la nonna se ne andava a giocare qualche numero all'otto, secondo la cabala veneziana, delle lotterie. E in me restavano irrisolti questi interrogativi turchi, saraceni, arabi, che mi incuriosivano a tal punto che cominciai a chiedere spiegazioni ai moltissimi membri della mia famiglia. Così veni a sapere che i genero, ai quali apparteneva mia madre, venivano dalla spagnola Toledo ed erano di origine sefardita marrano, convertitisi al cristianesimo in conseguenza delle crudeli persecuzioni avvenute in Spagna nel 1390. Con i genero erano imparentati Toledano, i Gregios e gli Azim, questi ultimi soffiatori di vetro bizantini a Murano. Qualcuno in famiglia parlava spesso di arabi mercanti e arabi spie venuti a Venezia per cercare qualche cosa che i pirati veneziani avevano rubato. Questi del resto erano argomenti quotidiani tra noi. Ricordo che un giorno un mio zio mi accompagnò in un campiello nascosto vicino a San Marisal e mi indicò un pipistrello di marmo verde collocato dentro una nicchia di alabastro, spiegandomi che era il simbolo di una setta di avventurieri saraceni, alleati ai templari e ai cavalieri teutonici. Passò qualche anno e cominciai ad andare da solo nel ghetto, frequentando con sempre maggiore acidità gli amici dei due campielli e le loro case. Poi gli avvenimenti mi portarono in Africa. In Etiopia, ad Addis Abeba, ritrovai molto dell'ambiente veneziano frequentando la comunità greco-ebreo-egiziano-armena. Nelle biblioteche di Debra Marcos, Debra Georgis, Debra Mariam, nei libri delle figurazioni copte della regina di Saba e del re Salomone scoprì che nella vita degli uomini che vogliono sapere ci sono sempre le sette porte segrete. E trovai che sette sono sempre le formule magiche e che i diavoli sono gli stessi, i libri nascosti più o meno uguali e gli angeli caduti un poco più numerosi. Nella letteratura copta si leggono vecchie storie con aggiunte apocrife. I miei nuovi amici dell'Africa orientale, più anziani di me di qualche anno, mi raccontavano storie bellissime su viaggi di Enoch e sui giardini dell'Eden. Venne la guerra e passei qualche anno in d'Ancalia e nel Logaden, tra i cammelli e i contrabbandieri di Chat. Da un cammelliere d'Ancalo venne a sapere che per entrare nell'Al-Jannah al-Dadn, il giardino dell'Eden, si dovevano aprire sette porte nel deserto e per portarle aprire si dovevano conoscere i nomi dei sette angeli terribili della tribù dei Saitans oppure farsi accompagnare da un poeta che abbia una chiave d'oro sotto la lingua. Da un arabo eritreo venne poi a sapere che l'Adriatico si chiamava Gun al-Bandai Queen, il Golfo dei Veneziani, e che gli egiziani chiamavano al-Bundukia la stessa città di Venezia. Ritorna in Italia che la guerra non era ancora finita, le case del ghetto di Venezia erano chiuse e gli ebrei fuggiti si nascondevano nelle abitazioni dei veneziani. Di notte, piano piano, si raccontavano di nuove antiche storie arabo-spagnole e si parlava della città cabalistica di Safed in Palestina, dove c'era la tomba di Simon Ben-Yohai, ritenuto l'autore dello Zohar, il libro degli splendori, e ancora una volta, quando ricorrevano le feste, mangiavo i biscotti senza sale che non mi piacevano. Fini la guerra. Da allora io vado e vengo per il mondo, quasi senza meta, ma a Venezia ci ritorno sempre. Un giorno il nome della vecchia signora ebrea che mi dava il confetto e la cioccolata bollente l'ho ritrovato inciso sopra una lastra di marmo vicino al portone dell'antica scuola spagnola, assieme a quelli degli altri ebrei deportati e non più tornati dall'ultima guerra. Non sono molti questi nomi perché Venezia nascose i suoi ebrei, li nascose nelle sue corti sconte, dette arcane. Corti celate ancora oggi dietro muri gelosi, con numeri civici che si reinventano quando qualche profano guarda troppo a lungo. Rimangono i nomi vettusti e sbiaditi, scritti su grandi rettangoli bianchi bordati di nero, come cartoncini funerari, e i gatti soriani che sembravano suggerire, quasi come un indovinello, che tutto là è come una volta. Bisogna voler trovare, e forse si può trovare appena oltre il ponte ebreo quando si entra nelle osterie dove si gioca ancora con le vecchie carte arabe la Saracena, la Maomettana oppure la Bella Giudea, giochi di oriente e spagnoli. Gli ebrei marrani avevano le loro carte, le vecchie chiavi delle case spagnole sugli stipiti delle porte veneziane. Quasi una promessa di ritorno alla diaspora voluta dall'inquisizione spagnola. Sulla fondamenta che va verso la Madonna dell'Orto, a San Marsiliano, c'è un palazzo con una croce teutonica, una rosa e un cammello di pietra. Forse a molti queste cose scolpite non suggeriranno niente, ma se si è veneziani nel cuore allora si capisce subito che dietro un simbolo teutonico ci sarà qualcosa di misterioso e una rosa torcigliata attorno alla croce complicherà ancor più l'enigma. L'aggiunta del cammello poi sedurrà definitivamente l'animo intrigante di un veneziano.